Siamo felicissimi veramente di essere qui a inaugurare questa teca che parla di tex, un fumetto, ma soprattutto il frutto del lavoro e dell'attività di un'impresa, un'impresa familiare importante con oltre 70 anni di vita, la Bonelli Editore, che è il classico esempio di impresa italiana familiare, che ha sempre operato nel nostro territorio, dando lavoro e investendo i propri utili nell'attività di impresa. È veramente un orgoglio che esistano imprese come questa e che siano anche nostre associate. Un momento importante, anche emotivamente, perché vedere tex nel tempio, come ho detto prima, dell'imprenditoria lombarda, ci rende orgogliosi di questa creatura che abbiamo saputo anche conservare nel tempo.